...che le erano imparate a memoria, le regole iniziarono ad adorare a questa massima e spesso stesse sul tramo si mettevano tutti insieme a pelare Quattro zanpe bene, due no Quattro zanpe bene, due no Fermi tutti! Questa è una lettura Articolo 14 Non avevo mai visto mio padre piangere prima d'ora Non piangeva come pensavo che un uomo potesse piangere Non un alito di vento, promontori brulli e rocciosi, improvvisi avvallamenti Per tutta la vita ho avuto la sensazione di trovarmi in altri tempi, in altri luoghi Ho avuto la sensazione che altre persone vivessero in me Forse è stato così anche per te, mio lettore Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri paesi asilo dalle perseguuzioni Ogni individuo senza discriminazione ha diritto ad uguale retribuzione per uguale lavoro Ogni individuo ha il diritto ad una cittadinanza Ti vi dèk, chi non connect di ma fall, non ma io Gennar demaldedeto La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo Nel mezzo del cammin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura Che la diritta via era smarrita Ai, quana di Qual eres cosa dura, esta selva salvatge, aspre e fort Che il pensament nova poma procura Tan amargant Che poc esplos la mort Cantare Ridere Sognare Essere indipendente, libero Guardare in faccia la gente Parlare come mi pare Mettermi se ne ho voglia il cappello di traverso Battermi per un sì o per un no O fare un verso Lavorare senza curarsi della gloria e della fortuna Delle prime, poche infestazioni di cui mi sono occupata per conto della Lockwood & Co Non intendo dire molto Non c'è traccia di vita Il silenzio mette paura Grazie Aya Grazie